Assicurazione, bancomat o falsa conoscenza. Sono diverse le tecniche e gli approcci con cui malviventi e malintenzionati, anche in quest'ultimo fine settimana, hanno messo a segno truffe e furti su cui sono ora al lavoro i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili e alla ricostruzione delle dinamiche degli eventi. I colpi eseguiti in rapida successione nel weekend hanno avuto origine nella mattinata di sabato, quando un ottantenne intenta rientrare presso la propria abitazione è stata raggiunta da un uomo di mezza età che ha messo in atto la classica truffa dell'assicurazione, comunicando all'anziana di dover ancora ricevere dei soldi da parte di sua figlia per il pagamento della polizza. Per rendere tutto più credibile agli occhi della donna, l'uomo ha poi inscenato una finta telefonata con la figlia della vittima, ma la voce dall'altra parte della cornetta apparteneva probabilmente ad una complice del truffatore. L'ottantenne ha quindi consegnato all'uomo la somma richiesta da quest'ultimo, per poi rendersi conto poco più tardi, con l'arrivo a casa della figlia, di essere stata vittima di un raggiro. L'episodio è stato prontamente segnalato ai carabinieri, che si sono messi al lavoro per risalire al responsabile dell'accaduto. I militari sono impegnati inoltre a rintracciare l'autore di un furto avvenuto nel quartiere della Tombaccia, vittima questa volta una settantenne che stava prelevando del denaro allo sportello bancario BNL e che al termine dell'operazione si è vista sfilare di mano il banco ma da un uomo, indicativamente sempre sulla mezza età, che dopo aver derubato la donna si è allontanato dal posto a piedi. Il rapido tentativo di bloccare il conto da parte della settantenne non ha comunque impedito all'aggressore di sottrarle del denaro, in totale più di 1500 euro, prelevando da diversi circuiti della città. Per risalire all'identità del malfattore, i carabinieri si avvarranno anche delle videocamere di sorveglianza poste all'esterno della filiale in cui è avvenuto il colpo. Altro tentativo di furto, questa volta fortunatamente sventato, è stato registrato in zona mare, dove un uomo è stato calorosamente avvicinato da una donna per un saluto. Il sessantenne però ha subito capito che ciò che stava per accadere poteva essere il classico metodo per sottrarre orologi dai polsi dignari malcapitati e perciò è riuscito a sfuggire all'inganno. Poco più tardi le forze dell'ordine sono state allertate della sventata truppa in Viale Trieste. I carabinieri raccomandano quindi massima attenzione per prevenire, quanto possibile, il ripetersi di fenomeni criminali come quelli che hanno avuto luogo nell'ultimo weekend.